Ragazzi, come si cambia? Ecco qua. Siamo tutti... Stiamo giocando già. Come ho scritto sul Telegram, per colpa di Memis, live rovinato. È vero. No. Che fallo, tutti i tasti sbagliati, anche per salire io premo Ace, salto in aria. Stanno già giocando loro perché bisogna fare il livello 3 per giocare insieme. Io ho già fatto una parola prima che ho vinto, naturalmente, in questa nuova Battle Royale incredibile. Quindi... Stonks. È andato grazie a Fra che aveva fatto il raidino. Grazie, Fra. Sì, grazie. Non ho capito, mi sono cagato sotto perché stavo giocando a Star Wars oggi pomeriggio. Ah, penso si chiamasse così. Grazie Bronco. No, grazie Bronco. Stavo giocando a Star Wars oggi pomeriggio e io ne ho tenere un PS aperto perché sento l'audio da lì e da lì non dà lì. Bravo. E c'è stato un mestizio che ha fatto 500 pizza così. Mi sono cagato sotto. Grazie, caro. Comunque, c'era anche un oracolo di pettone. Sarà bene l'Eurovision di quest'anno? È vero che... Guarda, però domani c'è una partita. Sì, questo è quello che vedrebbe una persona... Ma perché non ci posso... Io non capisco perché non mi permetti di cambiarmi i tasti in un gioco... Marco, è un gioco mobile. Non ci sono i tasti sul telefono. Eh, infatti non mi permetti di cambiare. Grazie, Johnny. A parte che non... Finché non l'ho aperto non lo sapevo perché mi avete detto... Tu scarica il gioco e tu vabbè, sei arrivato al pelo e mi scarica... Sarà la nuova Battle Royale, ragazzi. No, mi sto già cagando ad osso. La nuova Battle Royale. Sembra incredibile, io ve lo dico. Non lo dice cazzate, ragazzi. Non lo dice cazzate, ragazzi. Non lo dice cazzate, proprio di Battlefront. Vabbè, Vector. E che non conta niente il tuo parere. Vector, giochiamo, giochiamo. Io ce l'ho lì pronto. Ma domani mattina vogliamo già iniziare coso? Grazie a lei, Riccardo. No. Non possiamo fare veramente Battlefield e Battlefront. Ma poi abbiamo guardato se Void Train è uscito in Early Access o no. No, ho visto. Abbiamo dato per scontato. Vado a vedere in diretta, aspetta, eh. E' cascato un pene. Void Train. Di 6,99 costa ed è accesso anticipato. Quindi suca la meglia. Devo aspetteremo. Per fortuna che è uscito questo Fairlight, ragazzi. Eh sì. Mamma mia. Chiedo che lo disinstalleremo prima della live. Ma non penso. Mamma mia, amore. C'era Grazie Yellow. Io prima mi sono divertito un botto contro il botto. Grazie comunque l'ericam della teatro. Teco i bot. No, piuttosto mi sta venendo voglia di fare due sparattive su Fortnite, guarda. Quello tornerà, eh. Secondo me Fortnite è morto, ragazzi. Interarmato? Subito. Io sono esausto comunque, ragazzi. Sera veramente. Mica sei Frapsa. Devo fare le opinioni forti. Non è una opinione forte da Frapsa, questa. Eh. Divertente come gioco, sì, sì. Sto trovando particolarmente interessante. Sono pazzo non sento gli art. Non sei pazzo. Eh? Gli art. Non sei pazzo? No, è che ho mutato... Bello, Art Mode. Vedete noi con un bordello sotto, perché sto spiegando che finisce... Sono in spectate nella partita con i miei compagni che non conosco. E ho mutato il system. Ma non so se io le basta una partita a salire di livello, bro. Adesso lo vediamo. Ok, a me mi sarebbe il numero 3 addirittura. Eh, io ho due ne ho fatte con queste. Eh, io non sto finendo la prima. Adesso vi posso far vedere. Fai vedere. I veicoli sono... Ecco, i veicoli sono belli. Quello sì. Sono anche abbastanza vari. Cioè, c'erano un po'. Fattura della schermata. Questo OBS. Ah, ecco qua. Sì. Grazie. Che cazzo. Che culo. Eh, poi si pulla. Finalmente possiamo giocarci. Così si pulla. Così si pulla. Io posso invitare, quindi mi è bastata la seconda partita. Ma basta uno? Eh no, basta la seconda. Quei due. Ma... Ah, però magari siamo a basto uno. Eh, ma a me deve finire comunque questa partita, mi sa. Non lo so se potete accettare. No, fra i 25 siamo. Dov'è qua quanti siamo? 27 siamo. Intanto io faccio claimo, eh. Claimo, ragazzi. Claimo. Tra l'altro, questo qui il personaggio l'hanno... Credo l'abbiano rubato... Che voto daresti così dopo? Da Tracer di... Non lo so. Da Tracer di Overwatch, il primo modello. Quello col culo incredibile, però. Che pesca. La discesa è Apex. Proprio pari pari. No, ma è... Chissà cosa scrive. È un mix in realtà, come al solito. Prendono un po' di qua, un po' di... È Apex Knight. La Fortex è più bello, secondo me. Mi stanno sparando, ma non ci prendono. Dove sono? Sì, sì, è palesemente Tracer rubatissimo. Aspetta, adesso vi faccio vedere un po' intanto. Warehouse? Cos'è? Me ne frega una sega, guarda. Grazie C-Max. Mi sono arrivati i vittori. Grazie C-Max, grazie mille, grazie a tutti, bellissimi. Per adesso, all'inizio, hai questi quattro. Cioè, uno in realtà lo sblocchi dopo. Ma lui è il pompiere, che è pompato, naturalmente. Lui non lo so. Però vedete, sa le classi come su Apex e via. C'è lui. Dove l'ho già visto? L'ho già visto l'Aletorinco così, ragazzi. L'ho già visto da qualche parte. Anche questo l'hanno preso da qualche altra parte. L'Aletorinco non è quel gioco New Mutant. Come si chiama quello lì strategico? Non c'era una specie di Ornitorinco? No, no, così, così stupido cartoonesco, dico. Ma porca miseria, ogni volta che premo Evolo in alto, io luto di solito. Non è per di Finesse and Ferb. È proprio così tondo, stupido. Cioè, il cuore di Finesse and Ferb è tondo e stupido, però... Capì. Guarda. Vabbè, intanto io ne faccio una, eh. Recruit cos'è? Che fastidio che salto. Ogni due secondi. Perché? Perché io luto con la E, mi viene da saltare. Capito, Vargo, ma... Le basi del gaming, essere malleabili... Non sono malleabili. Usa il pad. Ma mega kill. Ok. Oh, mega kill. Ma poi ancora non l'avete finita, eh? Eh, no. Stiamo sulla parte finale. A 20 minuti mi sta durando, voi. Me ne è durata 10, poco. Sto imbattando alla fine, siamo ancora a 20 e sto uccidendo 18 squadre alla volta. Cosa gli è morto? 19 ora, 19. Non è detto che eri morto. No, la prima, voi state facendo la prima. Sì. Io ho la prima, sto facendo. A me la prima mi è durata una decina di minuti. Ma poi l'arma come la cambia? Devo andare... No, non puoi. L'arma non si può cambiare con quella per terra. Sì, sì, non so come. Ma si scendeva il veicolo. Con F, cioè, però... Eh, ma F mi prende il primo oggetto che lo scudo. Esatto, quello non so come si fa a cambiare. Perché nel telefono clicchi col dito. Eh, sì, certo. Io non lo so fare. Vabbè, sistemeranno queste cose. Ti lutta tutto in automatico. Sì, quando basta passarsi sopra ti lutta tutto da solo. Un po' ti spara da solo. Spettacolare, ragazzi. Questo qui, secondo me... A parte che... Adesso, rendendo e scherzando, è molto meglio di molti giochi che stanno uscendo. Sì. Purtroppo. Quello facile, però non mi... Eh, ho capito. Facile. Allora li facessero, ma... Siamo arrivati in dodici. Ma in realtà anche... Secondo me tanti non li fanno anche perché sanno che non possono competere. Ma il verde che... No, ma dico... Redfall, bastava farlo così. Vabbè, ma Redfall, proprio hanno cannato... Dovete aprire tab e scegliere quel mouse. Ah, ecco. No, dopo lo parlo. Oh, qui sparano. Sono con DevilX Demon, Che lo bello, Silent Farm. Tutti italiani, tra l'altro. Magari posso usare un calciato vocale. No, ma anche a me è segnato gli italiani, ma non credo perché i nomi non sono per niente. Oh, dove andiamo? A Pinnacoli Pendebili. Ah, ma sei partito, quello? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Mi faccio uno. Va bene la skin di questo qua, è un papero. Sì, ormai veramente... Cioè, ci lamentavamo di Pokémon, ma quanto pare Pokémon Scarlato e Violeto è un bel gioco. Lo sto rivalutando, ragazzi. Non devo saltare! Ormai stiamo in dieci. Sto restando il mio compa. Cazzezzavo, un ziumzium. D'oglia, basta dire cazzate. Perché? Perché non le può dire, secondo te? È il suo compito numero uno, cioè senza quello niente. Ma è noi? Quello è troppo, però. Ma le facciamo anche noi, le cacate? Eh, che c'è, non è che possiamo far solo noi. Mannaggia a te! Ho capito io. Che fucile. Ho spaccato la pregna. C'è il WSS, oh mio Dio, ragazzi. Eh sì, c'è il WSS, l'ho visto pure io. Tra l'altro, guardate, ci sono i Mecha. Quelli sono belli, vedi quelli sono veramente belli. Guardate. Probabilmente, poi tanti anche. E non c'è da costruire, poveri ragazzi. Wow. Vabbè, quello neanche più. Vabbè, quello ormai è stato debellato come metodo. L'audio è bassino. Tenetelo forte. Vector, dopo giochiamo a Master Wars. Sta venendo voglia di giocare a tutt'altro. Master Wars è domani mattina, lo vogliamo fare. Farming lo rimandiamo di una settimana. Domani mattina? Eh, visto che tanto poi venerdì vuoi fare... Eh, giovedì vuoi fare... Ah no, giovedì sera lo vuoi fare. Ma venerdì c'è coso. Eh, la fine. Io adesso, se riesco, vedo venerdì di levarmi dalle palle. Grazie, Sam. Ma domani mattina... Come volete voi, eh, poi. Domani mattina a Battlefront. Morto. Sono troppo forte. Farming settimana. Va bene. E tanto appunto poi c'è giovedì. Tanto ormai si odia, non lo vogliono vedere, farming. Chi è? Dove l'infausto merdoso? Ma sti in sette. Quindi sono tre di nici. M'annoggio a Poppilo. Ho vinto. Ce l'abbiamo fatta. Quante kill ho, per curiosità? Io ne ho 10 adesso. L'ho ucciso. Dove si vede? In alto a sinistra, credo. In alto a sinistra, per la sette. Me l'ha rubata il mio compagno. Ho fatto 21 kill. 12 kill ho vinto. 21 uccisioni. Vanno usate qualche mod? Non credo. Non lo so, magari ci sono tanti del nuovo. Sono livello... Allora, poi ci possiamo anche guardare. Tanto ce l'abbiamo su Steam. Su Epic. No, Steam. Cosa? Sono livello 2. Farming su Epic. No, io ce l'ho vista su Steam. Io l'ho scelicato la Steam. La Steam. È vero che lo devo riscaricare più che altro. Eh, quindi per quello... Premi Vimoro, avete ragione. Devo lanciare la mia... Dobbiamo farne un'altra, Miss Amark. Sì? Ma non puoi... Quindi non basta che uno arriva al 3 e puoi invitare tutti, dite. Sei al 3? Sono al 2. Io dici? No, non credo. Vabbè, intanto... Eh, facciamo un'altra veloce. Bene, facciamo un'altra. Intanto adesso in teoria è gente vera, dovrebbe durare molto meno. Sì. Stavolta si farà solo domani mattino, ci sarà anche qualche altra... Non lo so. Ma più che... Allora, adesso se ci prendiamo bene... Io inizialmente l'avevo scaricato per giocarlo con voi su Discord, quindi... No, però domani mattino lo facciamo in live, poi vediamo. Perché a me diverte proprio, cioè... A me i giochi di Star... Cioè, a differenza del film, che non mi hanno mai appassionato tanti, i giochi di Star Wars è da quando sono piccolo che mi piacciono. Li ho giocati tutti. Mi piace proprio giocare, muovermi con le spade laser, le cacatine, mi piace molto. Caccare... Caccare... Che bello questo signore cicciottello! Sì, sono andato avanti un po' con la trama di Star Wars senza fare spoiler, è quello che ha detto Gatto stamattina, è che ti hanno detto un po' vero. Cosa che fa? Ha detto? Non mi ricordo. Che hanno un po'... Ho rovinato il... Sputato sopra all'ordine Jade in generale, al dogma dei Jade. Però vabbè. Questi non sono molto ragazzi, sono io che sono forte, naturalmente. Ci tengo a precisarlo, perché poi... Battlefront 2, sì, facciamo... Vengono agli spartoni. Facciamo Battlefront 2, ma... Come? Doglia? Ma abbiamo parlato due settimane, alla fine tu non ci sei per giocarlo? Perché non c'è crossplay. Perché non c'è crossplay. Sì, non so perché non l'hanno messo. Perché palle... Però... È vero. Posso anche capirlo, bambino, perché hanno fatto sta cosa in Star Wars, anche perché non è il primo che lo fa. E tanto poi l'ordine Jade, tecnicamente non c'è più... Ma come cazzo corro, ragazzi? Ma ho dei problemi... Sono... Forrest Gump quando c'ha i tutori. Ma come cazzo corre? Sto giocando contro Rafa e Leao. Grande! Ma perché mi chiama... Ah no, ok, mi chiamo The Mar. Eh, non lo so, bambini, comunque sono arrivato poco più di metà, quindi per ora. Chissà cosa sto raccogliendo. Seguitemi, miei broschi. Oh, mi sparano, eh. Attenzione. Oh, cazzone, oh, cazzone. Faccio così che ho un faro un po' troppo puntato in faccia. Per un po'. Oh, un bombarazzo di miei, sì. Sono partito da zero cash. Allora, vado a carnivale. Ogni scherzo. Ma come l'ho cagato questo. Ciuccia. Scusate, un po' Toxic Play. Dovevo restare il bro. Ah, ma non mi stanno seguendo i compagni, va bene. Eh no, i bot sono un po' lenti. Ah, questo è il brofist. Ing. Come... Compagni sono bot? Ma io sono da solo. Secondo me sì. A me non mi hanno mai seguito. Ma io sono da solo. Tro, troppo. Non lo so. Ma sono da solo contro squadra A4 o siamo... No, sono alleati questi. Perché mi hanno messo da solo contro squadra A4? Eh, quanti mancano? 27. Ma guarda che belli i veicoli che si spostano di lato, ragazzi. Best feature è questa. Andrò a cercare gli altri che devo sbrigarmi a ucciderli. Hanno copiato un po' di una porta e un po' d'altra. Sì, sì. Sì, sì. Ti ho detto, è Fort... Sì, hanno copiato un po' in giro. Fortpex Watch. Ma sì che free to play, ragazzi. Cazzo domande fate. No, è morto alberello. Potrebbe non essere free to play un gioco del genere? Che è, Ant. Posso andare stealth? Wana ma... Cioè, pure i veicoli hanno le succhie. Ma mi spalla? Sì, ma io sono da solo contro quattro. Mi stanno pingando cosa? Ma quando lo stai sfruttando? Ma per forza mi ha chiesto se è free to play sto gioco. Ok, ho buttato giù. Fa caccare. Ma cosa ridicola, Sanluca, questa, eh? Seccato. È morto. Ma ragazzi, questo bitra... Come spara? Oh cazzo. Com'è? Respawn point? Scusami. Ah, c'è solo l'abilità di Valorant anche. Perché si respawna? Solo all'inizio, mi pare. Scusami, la batterroia. È solo una volta. Ho fatto! È morto. Su canchia, mi sembra. No, sono morto anch'io. Instant respawn? Non capisco. Cioè, la batterroia si respawna. Va bene. Vabbè, anche su COD. Sì, ma c'è un attimo... Devono restarti gli altri. Devi vincerlo, però... Eh, vabbè, ragazzi. Sì, adesso. Cazzo, dai. Troppo complicato. Questo? Questo è turco. È pieno di gente dalla... Dagli Emirati. No, Marta. Sì, anche a me mi hanno ucciso a... 20 alab. Diciamo anche il nome. Da me sono tutti italiani, pensa. A me tutti... Metà turchi e metà arabi. Cazzo, c'è uno con la... 240 frame, eh. Ok. Lancio le... Ma io non sto capendo. Ah, è proprio... Come si chiama il dottore di Apex? La tizia. Lifeline. È Lifeline, lei. C'ha pure l'airdrop. No, crocchetta. Ah, proprio uguale. Sono andato giù, ragazzi. Eh, ragazzi. Rest, please. Please, rest. Please. Dove fa? Un arm. Oh, Silent Farm. Toxic player. No, mi sto sparando guinzaglio. DevilX Demon grande. Bar Hitler. C'era. Come? C'era lui, si chiamava Hitler. Era un botto, chiaramente. Però non era... Lui era spawnato. È un casino, eh, se era spawnato. Non è tedesco, però. No, è Hitler. Sono più di uno. Ah, è più di uno. È l'esercito... Che ricolosissimo. È come i Gandhi. Ma chi è che spalle, no? Ma come si fa cura? Come ci si cura? Quattro. Cinque il scudo, mi pare. Il scudo, mi pare. Il scudo, mi pare. Ristare il scudo? Che roba? Incredibile. Cinque non fa niente. Forse non ho gli scudi. Ma credo che puoi metterlo come nome. Non so. Secondo me sì, tranquillamente, poi. Non lo so, eh. Vabbè, con qualche modifica, sì. Allora. Nessuno che ne frega niente del mio airdrop. Io lo prendo. Gruppo un culo. Do per scontato di sì, Gliizar. È il porting diretto di quello mobile. Cioè, quando devi andare nella scherma iniziale, ti dice tap... Tu continuo. Ma no, ci sono i simbolini, quelli dei passi. Come su Fortnite. Sì, zonne. Ormai usano tutti, anche se è cittone incredibile. A me me l'ha fatto mettere Tiziano. Ma non era nato per loro, era nato per... Eh beh, certo. Poi che non sentono. Eh ma ormai è canon. Eh ma il problema è canon, sì, perché è talmente forte quella roba. Ma io non lo uso perché fa fastidio. C'è uno con la motorella gommica. Dove lanciare pure... A me non c'è comunque, lo fa... Ma è perché non ho più le armi, io? Io ho preso due cecchini, ma... Che idea del fellazio. Ecco qua. Eh no, adolfiù è l'era d'oglia. Non c'è più, no. Ciuccia, ciuccia, merdaccia. Enancio. Leao, ti prego, restami, Leao. Dai, Leao. Grandissimo. Vabbè, giustamente non può giocare, domani è a caso da giocare dopo. Ma che pro, che pro players. Quando è uscito il gioco, recentemente? Questo? Credo... Che cazzo, non lo so, ragazzi. Oggi, boh, penso, oggi. Ieri, oggi, boh. Fatemi andare con il mio Metal Gear. Ma c'è anche questa volendo, però. Buono. Questi li facciamo schiupare, però. Devo cliccare in piedi. È urgente. Cos'è questo fascio di Luger? Qui c'è il bot amico nostro che cammina nel culo. Allora. Guarda, la macchina, vedi, si trasforma e diventa un meca. Cioè, ragazzi! Cioè, questa cosa è fighissima. A finire che portano, magari, le coppia a questa cosa. Dov'è? Devi dentro, ora capirla. Un attimo, un attimo. Ritorno. Scendo due settimane fa. Ok. Cazzo, non c'è. Ah, sì, sorta. Ma veramente ha fatto sto gioco, Anno. Ma anche Power, dicevano. E il futuro. Voi no. Sono ospirato. Ma figurati, mobile, mobile, ma figurati. E invece, vedrete. Buttato giù il pirma. Non si costruisce. Quello ormai penso che nessun gioco farà mai più le costruzioni. Perché questo qui spara il fuoco. Ma chi è che spara il fuoco? Arrivo, eh. Power l'ha provato oggi. Ci ha sentito, eh? Era, palesemente, ci ha sentito stamattina in live e ha detto che ci ha copiato. Uccisi tutti, pagliacce. Mi hai un spara? Che lega non avevano? Ah, no. Ah, ma era uscito il merdancia. Sto scemo. Sono partito da zero cash. Ma tutti sia... No, non tutti, sia da solo. Power lo gioca da anni. Ma già che c'è da anni questa cosa... Come lo gioca da giorni? Che da anni. Dove hai detto anni? Non lo so, sono stanco, ragazzi. È un spara. Nella stessa partita no, perché dobbiamo salire di livello. Sono veramente esausto. Ecco qua. Poi dopo facciamo la partita insieme. Non mi basta anche questa. Ma io quanti chi l'ho fatta, Luca? Sei, io ne ho fatta. In alto a sinistra, lo vedi? Sei, io ne ho fatta. Io ne ho due. Non trovo nessuno. Qua sono da solo. E mancano tredici persone. Ah, ventitra. Ah, respawn di Zebul in sei cinque nemica. Quanto ci vuole? Forse l'ha fatto anche Karim McLean. Cazzo fatto! Ci sta, eh. Cosa l'ho fatto? Non so se c'è ancora Francesco nei chat. L'hanno fatto da lui, ma anche a me l'hanno ucciso. No, non lo so, però prima sentivo Francesco che ha dato la sua opinione, quindi l'ho provato. Ovviamente con l'ho chiodarsi, eh. Senti, uccidi quello e tirami su. Leao, David Lipstein. Ma io non posso essere entrato su, ero da su. Incredibile, Fran, sto gioco, eh. Orca troia, mi spara. Non riescono a ridere, anche se... Ha delle cose positive, eh. Ci mancherebbe. Rispetto a tutti i giochi che sono usciti quest'anno, Marco. È il migliore? Adesso mi sembra un po' eccessivo. Però, sicuramente ci sta, sul telefono ti diverti. No, no, Marco. Dimmi un solo gioco che è uscito quest'anno meglio di questo. Impossibile. Advanced Wars. Una paraculata, quella, Marco. Eh, però non vale perché è un gioco vecchio rifatto. Eh, Marco, certo. Tu sei un pirla! L'ho ammazzato, però. Si sta arrestando a me? Oh, mi ha arrestato, rega. Ma forto. Ma c'ho i pugni nelle dita! Ma scusa, ma quel Metal Gear si può prendere? Tutti si possono prendere. Eh, vediamo se riesco ad arrivare. Guarda che mi sa che vinco la mia battle royal con la gente qui, eh, tra poco. Siamo in 14. Non so se sono gente o bot meglio, ma... Metà e metà. No, questi... Questo qua erano proprio sui tetti che vi cecchinavano. Quello che mi ha, sì, quello che mi ha ucciso, ma cecchinati da una maniera incredibile. Non tutti, però alcuni li ucciseranno fermi. Dipende, dipende, dai tizi. Dalle tizie. No, cazzone. Di luto automatico è il futuro, sì. Sono partita da zero cash. Justin Linux, vieni qui. Fammi, tirano su i miei cumpa. Posso bloccare qualcuno o no? Posso tirare su solo lei forse, che c'è il cazzone dietro. No, no, la SUL! Sulle i montari? Sono senza vita, ne sono accorto adesso. Mi sto avvicinando col mio mecca. Oppure vado a vincere da solo, siamo in due, vado a vincere da solo. Oh, pieno di ragazzi turchi. Incazzatissimi. Sempre di più. Incazzatissimi. Anticigabyte di RAM che richiede questo gioco. È un gioco mobile, non vuoi che chi. 32. Sono 13. Come Gollum, mi pare, ragazzi. Io ho detto 13 a caso, ma mi pare che dan 13 per davvero. 13 gigabyte di RAM, sì, li trovi sempre nei consigliati. Marco, effettivamente. No, no, non quello. Non sei stanco, tranquillo. Devo andare in bagno urgente. Team, seguitemi. Dai, sono il vostro capitano. Chi è il tuo capitano? Siccola citazione. Ah? A me. Un po' triste come cosa. Abbastanza. Dov'è l'ultimo fagiano fenicottero umano? Eh? Ma per cosa faccio, Goncino? Non ho mai usato l'abilità, io. A differenza di Marco. Hai trivelli or mam? Ecco qua. Chat, se lo vedete, ditemelo, eh. Che gli aiuti sono sempre ottimi aiuti. Eccolo qua. Stiamo avvicinarsi, eh. Senti, eh? Si gira, chiede. Su mobile, su mobile. Ho vinto. Ragazzi! Ragazzi, il campione! Il campione! Ecco la pasta per voi! Ecco qui, ecco qui. Ragazzi, sono io, il campione. Tap to continue. Invitano. E' stato invito, eh. Oh, povero per lei. Eh, lo so, ragazzi, lo so. Lo so che siete qui per il pro player. Allora, eh... Un attimo, un attimo. Mi dici come ti chiami? Indovina. Devo fare il suscito male, ma... Il Gliézar indovina, mi devi dire il numero. Che indovina? Eh, dov'è il numero? Numero. Se clicca... Il Gliézar ci hanno aggiunto con... No, lui l'ha aggiunto semplicemente con il nome. Basta scrivere il nome. Vai, dire. Il Gliézar... Banzoni, Alessandro. Ma sei bronzo 5, Gliézar. Non ti aggiungo. Uno l'ho ucciso. Marco, ti chiami The Mark? Si, normale, Buzz. Ah, sono andato a morire, ma... Non davvero. Gli uccisi tutti. Si, The Mark e Buzz, sono. Senza niente. Ma la T e la M maiuscola. Ah, forse T e la M maiuscola, le devi mettere. Eh, se vuoi giocare, Memis? The Mark 24. No. The Mark Codan. Ma, eh... Dopo ti aggiungo io. The Mark Rebel. Aggiungi Memis. Così vieni a carriarci. Aggiungo Memis. Con due S. No. Mi sa che arriviamo secondi, eh? Beh, la Consi, forse. Cerco la Consi. Ma sei Silver 5? 4? Quanto sei giocato, Memis? Silver... Argento 13. Eh no, Argento 4. Ah, niente, è declassato. Ma in Memis ti invito, eh? Ma non mi hai invitato neanche a me. No, siamo arrivati secondi. Adesso... Ma sì, in Memis. Aspetta. Venire in vocale, devi venire sotto Discord, vai nella stanza. Sai che è probabile che lei possa. Occhio che bestemmia, Memis. Non devi bestemmiare se vuoi venire in vocale, però intanto entra nel gioco. No, non so se vuoi. Mi hai invitato? Mi hai invitato? Siamo già in gruppo, Moro? Per caso, no. No, ho invitato adesso. Join. Tap per... No, non c'è tap. Mettiti in una stanza a casa, nel senso. Com'è questo weeknight? Si gioca, diciamo. Si sarenterà. Arrivo, arrivo. Mi fa cacare perché non posso cambiare i tasti. Però per il resto... Ci giochi. Se ho queste porte, ne gioco a forza. Si, Marco. Dove mi hai... Non lo so. Memis, è arrivato all'invito? Sono stanco, Doglia. Sono veramente stanco. Siamo il clan, poi, ragazzi. Naturalmente facciamo il clan. Pushiamo, pulliamo le skin. Oggi, se chiudo gli occhi, mi bruciano, mi addormento istantanamente. Ezra, te l'ho invitato sei volte. Accetta sto cazzo invito, per favore. Ah, eccolo qua. È riuscito adesso. Questo, e questo, e questo. Credo, questo è tutto il mio maledio. C'è un po' di sleeping streaming. Bye. Oh, niente. Come si vede qua? Se trovo la voce di Memis, no, perché è mutata. Come si imbarazza, è piccola. Però, Memis, se mi accetti la merda di richiesta d'amicizia, che altrimenti pongo finito. Ma sono stupida. Sei pazza nel ventuno. Che dolore di volus. Ciao, Memisuccio, là. Wow, hai detto? Wow, che polli. Ecco qua. Adesso bestemmia, dai. Non bestemmia, io sono con Gesù. Senti, di Polizano Nord, eh, quasi. Sì, sì. Memis, mi accetti la richiesta di amicizia. Se mi dai il cazzo di tempo, però, eh. Questa calma. Ponzio, smettila. Ponzio, ti saluto. Ciao. Ma non rispondere. Non devi interagire con le persone, tu, va bene? Io sono educata. Non sei educata, sei stupida. Va bene. Aspetta, ecco l'invito. Vai. Siete pronti a vincere, eh? Eh? Sì. Tu, lei. Non mi sono pentito, ragazzi. Ma io anche. Ma sei, hai scioppato, pure. Ma che scioppato? Ma che scioppo in questo gioco? Hai scioppato, ragazzi. Io scioppo solo su LOL. Smettila, per favore. Sei ridicola. Va bene. Oh. Sei zitto, togliati. Cago nel tappetino del mouse. Oh, voglio vedere come non ce l'ha mai. Se Luca ha niente, non posso neanche farlo. Grazie, Luca. Sì, ora non ho l'oraculo. Non posso. Non devi rispondere alla chat, tu. Va bene? Ma sono educata, scusa. Non devi essere educata, devi... Solo perché tu sei uno stronzo, non è colpa mia. Pensavo streamer, pensavo dicesimo. No, streamer. Streamer è una parola importante. Digli, digli, vieni. Digli, digli, digli. Non ti addormentare, tirati su. Sapete che il mio streamer prevedeo è il suderone, cioè... No, ecco. Sono ragazzi... Chissà se lui l'ha giocato, questo. Non lo so. E tu, Nemis, che lo segui? Devo farti l'oraculo, pure, di lupo. Ah, aspetta. Perché sono quella col culo, Nudo? Non ci abbraccio a tutti, ti scacco le rame. Allora, ragazzi... Nemis, mi dici il meta, intanto? Il meta è saper sparare in testa. No, ma sento la chat vocale, io. Ottimo. Eh, allora, devi... Devi fare P e mettere il tuo stico rosso. No, ma è che per stermiare? Un stupestegno. Ok, grande, bravo. Grazie, Nemis. Eh, yeah. Devo abbassarlo ancora di 8... E Nemis è mia sorella, caro male. Certo! Io prendo la gnagna, eh. Chi è? Il capitolo dell'America. Che è la gnagna? Eh, quella lì. Eh, questa... Col culo incredibile. La mia c'ha il culo più incredibile. Eh, ma io ho i capelli rossi. Cazzo. Ma, ragazzi, ditemi un po'. Come... Come va? Allora, toglia. Tre città napoletane. Sassa, Sulla e Pulpo. Vabbè, Nemis ammuntiamo, eh. Questo è l'esempio di come abbiamo plasmato la chat. Ho fatto pure... Adesso la ammuntiamo istantaneamente e non parla mai più. Oggi stiamo dando l'esempio del perché non facciamo le live con i sub in locale. Ma è vostra amica, intenzulete? Io non ti conosco, Nemis, comunque. Ma ti conosco da dieci anni, che ho battezzato io. Ma questo non credo, eh. Cosa succede dentro questa poz? Comunque, una Airpods. Oh, ragazzi, chi è il capitano? Ehm, Marco. Oh, figa. Scusate, non ti dicono il problema. C'è scritto following remark, c'è scritto. Ah, io mi son buttato, ragazzi. Ciao. Ma cosa qui? Vedi giù qua. Ma ci ha buttato per niente sto stronzo. Ma sei il pusto? No, adesso iniziano con il capo e il capitano. Tra l'altro, Marco, questa sera dobbiamo litigare, eh. Eh, figurati. No, no. Perché? Perché ieri... Mi devi chiedere scusa da ieri in una maniera gigante. Ma questi sono pagliacci. Perché? Cosa devo fare? Chiedermi scusa. Perché ieri hai fatto... Eh, la Trotas giocavi a Genshin, coglione, scemo. Non ti ricordi un cazzo? Neanche... Avevo ragione io. Io ho un'arma. Eh, ma voi due, io... No, no, tu hai detto Dredge. No, mi sei già morta. Eh, ho capito, ero senza arma. Vabbè, ma c'è il respawn all'inizio, chi se ne frega. Arrivo, arrivo. Ma ha ucciso un ucraino, eh. Marco, sei morto anche tu? Sì. Cazzo, è vero che adesso magari c'è della gente? Eh no, perché non avevo più le palle. E da chi cazzo stai spavendo? Marco, tu hai detto che lo avevi finito Dredge. Ma io non l'ho mai giocato Dredge, no? Sì, ma tu, per dire una stronzata, hai detto Ho finito Dredge, e io ti ho detto Dimmi un pesce su Dredge, la trota. Ah, quella... Perché avevo fatto la gag, ok, ok. Adesso fila. Adesso ha senso. Quindi, Marco? No, no, c'ha ragione, allora. Sì, sì. E però, effettivamente stavo dicendo una cagata, quindi potevano dirmi anche Super Mario, avrei pensato che era Gagehi lo stesso. Andiamo, Memis, dobbiamo pushare. Sì, sì, vado, vado. Pusha... Oh! Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? C'è un altro robottino qua. Ho visto degli spari dall'assù, io, eh. Io non ho sciso uno perché sono il più forte del gioco. Anche io push, ho visto, Memis. Ma è bravissimo. Marco, ho sciso Portuga. Portguese di Ace. L'ho visto lassù. È lassù, Prec. Tu vedi, ricarica orizzontale, sdraiato? C'è uno lì. Ah, sono due là. Chi è che c'ha il wallhack? Uno, c'è uno. Ah, io ho il wallhack. Ah, grande. Io lo valerò in piedi. C'è uno qui, eh? Qui, 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 qui. Quella sfe... Ostia miseria. Oh, Mimmo. Oh, pappalardo, man. Gigi la droga. Io vado a push ora, eh? Gigi la droga. Ma dove pushi? Che non ce ne sono? Eccoli là. Andrea pushi. Ok, ho ucciso uno. Mi ha pumpato pure la fava, c'è uno sopra. L'ho visto. C'ha l'iground, ragazzi. Non posso farci assolutamente niente. Ma lo puoi fare anche tu, l'iground. Eh, ma era molto in iground. Ok, l'ho colpito. Gli ho tolto un casino. Vado sul tetto del mondo. E quindi è il tetto giallo. Marco ha distrutto il portogallo. Chiedo scusa, pagliacci! Marco è lì? Dai, che l'ho ucciso. Ce ne sono due, mi sa, eh? L'ho ucciso uno. Un altro lì. Sei tu, è Fassi, ma non vedo. Fassi me li segna qui. Ecco l'ho fuori, Marco, nella finestra. Sì, ti proteggo io con le mie palle. L'ho ucciso. Bravo. Però era per terra, eh? C'è un altro di qua. Sì, aspetta che lo seleziono. Ok, l'ho ucciso. Chi è che ha sbombardato? Io. Col veicolo? Sto uccidendo una marea. Ma era dentro, era? Come si fa? Che tasti sono? Che cacchio di gioco? Che non mi fa capire. C'è, sento i passi. È dietro di te, Memis. Ma non ci caga, tranquillo. Ok, perfetto. Come ha fatto andare da sopra fino là su? Mi si fa usare lui? Ah, è blu, è blu. Stava camperando il pupa e sta su. Mori! Ok, morto. Ezzo. Il toxic player, bro, è imbarazzante. Usa il drone. Chi è il drone? Eh? Io forse, non so, però non ho capito cosa devo fare. Allora. Non so, ragazzi. Ma sti giochi usa le cose. Ma vaffanculo e sparate. Così si fanno le kill, eh? Allora, lì c'è qualcuno. Oh, sprono a Mizzaro, basta di bombardare Napoli, è lì! L'ha colpito un progetto. L'ho acceso quasi. Bravo, l'avete campionato. Bravo, l'avete campionato. Vi ho guidato proprio bene, ragazzi. Io non stavo ascoltando, così? Eh, tante cose incredibili. L'ho premuta la vagina. La V. Sento i passi! Eliezer, Eliezer. No, no, no. No, no, l'ho vista anche io. Ma è qui nel palazzo. È di Sus, secondo me. Siete invisibili. Azzo, è invisibile. Ah, noi siamo invisibili. È sul tetto, qui. In questo edificio. Ok, oltre il muro vedo Eliezer asseduto. Merda, da dietro mi hanno inculato. Ok, l'ho buttato giù. Ho cecchinato uno. Ok. Lagga con lì. Fucking man. Mi metto qua dietro. Quello sotto è craccato quasi. E quello là non lo posso colpire. C'ha la barricata di Bongo Bill. No, crancabile. C'è uno da dietro che arriva a cagarti. Aspetta, eh. C'è uno qua dietro, Eliezer. Lo vedo, vedo i passi. L'ho cecchinato di brutto. Vedo i passi. Si può dire questa cosa? Ai, 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 ai. È scivolato giù, Moro. Ok, qua. No, sono morto. Moro, mi ha ucciso un giapponese. No, mi ha buttato a terra. Ma cazzo, dov'è? Ma come instant ha responuto? Vengo giù, vengo giù. Ma mi ha ucciso Goulash Man. Ah, possiamo responare di me. Questo era fuori. Io non posso, mi sa, perché sono morto all'inizio. Ah, mi devo curare forse per quello? Marco, hai ucciso tra Fargar Lovale e Comicità One Piece. Sì, mi sa di sì. Adesso scendo e vengo a prendere il perdono. Ma mai non posso più giocare con voi. Perché? Batman ha ucciso Pericuri. No, Pedicure. Ah, io non c'ho parole Gonadil. C'ho un'armetta, però. E' pieno di merda. Ah, io non mi sparo. Sono in una situazione di Gandhi, ragazzi. Mamis, mi raccomando, cosa dice? A Gandhi? Sono tranquillo. No, in generale, in generale. Sì, sì, sì. Sì, sì, no. Ho fatto mega kill, ragazzi. C'è un altro, Moro, ce l'ho fatto sopra di te. Non ce la faccio, voglio dormire. Cazzone, non ho vita. In alto, sopra l'altro tetto. Ma ti ha sciolto? Non avevo la vita, non avevo maledizione. No, mi hanno ucciso, però. Ah, ma siamo morti proprio. Sì, è un gioco per mobile, DRA. Sì, andavo una certa, non puoi più rispettare. L'hanno portato su PC, ma è palesemente gioco. Ma io sto mangiando e non riesco a sentire bene. Magari sta mangiando qualcosa di croccante. Ti ovatta tutta la possibilità di far fare. Sai che è un casino, sai le cuffiette e mangi qualcosa di croccante è un disastro. Ma chi sto guardando io? Ma fammi uscire. Vettor, senti, ti prendo a ceffonata, eh? Fammi fare qui, per favore, dai. Che devo rancare. Ma io non sono uscito, sono stupida. Poi può capitare delle volte, non ti preoccupare. Non gli capita spesso. Aspetta che claimo tutto. Ah, una skin, una skin. Uh, un razzo pelvico l'equipaggio, questo, eh. Secondo me non si chiama così, Moro. Stai dicendo una bugia. No, no. Marco, dammi retta a me, aminghia. Perché è in tigiliano? In tigiliano non esiste come lingua. Sono... Aspetta che guardo la season. Tocco, tocco. Ma non è la schermata degli opening pack di FIFA, questa, scusate. Adesso trovo... Brownie Tots. Marco, giusto, non ho perso morto. Mamma mia, ho avuto una idea. Mettete pronto, mettete. Mettete pronto. Ma è, certo. Ma è quello di Apex, come si chiama? Puffo, no. Quello che lancia le verde verdi, come si chiama? Ah, Kalsi. Eh, Kalsi. 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 Chi è Kalsi? Kalsi? Mi hai detto tu, Dolia, perché siamo amici. Kalsi. Kalsi. Io gli tolgo i poteri da moto, cosa facciamo? Mettete, dai, per favore. Sei bravo. Guarda come sparo. Va, va, va. Mi serve un po' di meno sensibilità, però, per diventare ancora più pro-playing. A me strana, vabbè, l'ho alzata un po', di base, quindi mi trovo bene già da subito. È incredibile, comunque, che un gioco del cazzone mobile abbia lo shooting migliore di quella diarrea di Redfalle. Ma come cazzo è possibile, ragazzi? Ma come è possibile? Eh, ma lo fanno, eh. Sei zitta! Sei zitta! Ce la faccio, ragazzi. Io poi già sono stanco. È difficile stare dietro queste vacate. Fammi prendere... Sì. Fammi prendere... Chi ridono? Sono Covid. Sono dei clown! Per quello ridono. Sono delle scimmie, a nostro piacimento ridono. Noi facciamo così, non ridono, ci danno i soldi, in questo altro... Vabbè, l'importante avere i soldi, no? Non ce li ho, lo sto spendendo tutti per fare i traslotti. Ma come una voce dolce e gentile, non è vero? Grazie. Perché poi dove? Perché te la sei presa, scusami, eh? Ti ho fatto un complimento. Ah, beh, che è sicuramente ubriaco, Draco, eh, quindi non credo. Mi fanno Marco che ho riso molto. Marco mi hai chiamato scimmia, segnalo per azione. No, Tander, non ti preoccupare. Io lo posso fare, sono il capo delle scimmie. Ecco, e dice che è capo, vedi? E poi dice no, poi dice sì, e decidi. Il capo delle scimmie, ho detto, ho detto il capo in generale. Il cago. Se poi vi sentite delle scimmie, allora sono il vostro capo. Andiamo là in fondo, Marco. Arrazzo, Marco, laggiù, arrazzo. Andiamo, 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 andiamo. Aspetta, non mutate. Eh, lo so. Io ce l'ho. Tanto la mappa di Apex, questa qui, eh. Eh, scusaci, abbiamo sbagliato. Eccoci qua, scusaci, Marco, niente, non si può più parlare. Scusa, Marco, va tutti insieme, eh. Ormai non è, cioè, sono proprio coordinati, veramente come... Che belle le scuse del capo, ragazzi. Scusa, Marco, vai giù bene, però. Eh, vai giù bene. Ti sa se hai fatto dei coglioni subito, comunque, eh. Sì, sì. Non stacchiamoci, poi subito via. L'infame. Ragazzi, mi scarico... Ah. Ma perché, Moro, per te devo essere sempre ubriaco? Beh, perché l'ho dimostrata. Dai, Draco, non mentire. Marco, ormai posso prendere 30 minuti di permesso, sì. Ma Marco, perché del posto per gli sfigati ci hai fatto scendere, scusa? Ma c'è uno qui. Eh, sparagli, che sei solo. E non ho armi. Arrivò, Jezar. No, quel ragazzo. Se sono vostro padre, mi hanno fatto sesso con le vostre madri. Non mi sembra il caso. Dovremmo iniziare a insultare le madri dalla chat, comunque. No, 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 non è un insulto, è proprio una cosa genetica. Se uno è il papà, è perché in qualche modo... Ok, l'ho ucciso. Marco, posso avere un aumento? Eh no, questo purtroppo non so fare. Maledizione, questo voglio. Cazzone di lutto. Marco, fai sesso con me, non con mia madre, dai. Va bene. Preggere un attimo Draco, Marco? No, non posso... No, perché ha ragione, Draco. In questo momento non mi sento di dargli torto. Però... Ti abbracciamo forte. Eh, Draco, ormai è così. Sei segato a vita. È canon. Canon, ormai. Draco ubriaco. Fa anche riva. Wow. Che cazzo questa arma faceva cagare. Ho letto bene. Mi pare. Questa? Questa spara come il cazzone, ragazzi. Questa sfonda, eh. Eh, Marco, ma spara... No, no, stavo... Eh, adesso, stai tranquillo. Stavo provando la... Ah, trovare gli scudini ti fa inanciare il... La cesta. Ma che armai è pezzoniglio, pazzoniglio. Ma che cazzo... Il cazzoniglio. Il porco spino, c'è pure... Che paura, Memis. Eh, eh... Ma questa è... Ma questa è l'arma, scusami, è l'arma di Star Wars. Ragazzi, questo è molto sonno nella cameretta del Napoli. È là sopra. Merda. Aspetta che dovrei caricare. Ma sta sparando a un altro, sta sparando. Che è open fire? Marco, ma che fai? C'è il paperone pillon! Ma mi hanno sparato da dove? Non è così simpatico il pillon, posso dire. È il paperone pillon. Aspetta, l'arma che ho raccolto io... Eh... No, era più lunga quando l'ho raccolta. Oh, oh, oh! Oh, oh! Sarano da qualche parte. Aspetta. Non è che ci sparano? Ah, è questa l'arma di pillon. Aspetta. Ah, perché è un cecchino... Esatto, di un buon vino. E Battlefront 2, ce l'abbiamo qui. Che schifo la C. Come skill. Oh, chi è sto pagliaccio? Lo vedo. Ragazzi, togliete gli occhi dal culetto mio, eh? Per favore. Pagliacci. Chiamo l'hardrope. Chiamo la polizia, eh? Aspetta, che c'è gente intorno qui. Ci, chiamano i carabinieri. Ci, subito, arrivano, eh? Impossibile. Maniaci. Tutte le armi copiate incolate da... Ezzar, guarda questa, guarda questa. È di star uomo, è di star uomo. Ma c'è la safe? Vabbè, masticarsi, la segna. Un bel pensiero. Temurati su un problema. Io vado a star... Cisera? No, non lo so, ha preso tutta la soffera. Stellar Wind si chiama, dai. Chi è che spara? Uccisa, una pezzocchera. Ma c'è, tipo questo. Ah, questa è l'invasore. Jupiter. Io vado, poi. E andiamo. Ah, lì, quella che c'ho in mano. Fai idea? Eh. Palesemente di Star Wars. Ma, insomma. Dai. Più o meno. Identica. Più o meno. Fa... Non è una spada lanza. Non è una spada lanza. Non è una spada lanza, questo muro. Ho tanta miseria. Boh, vabbè. Mi stavo accanto, non ha fatto nulla. Non ha fatto Nolly. Ugo Nolly. Prendo il Mad Rat. Io voglio la K-42. Perché? Perché mi piace. Come se prima guardassi altrove, eh? Ora non riesco a non guardare. Certo. Clueless. Grazie, Luca. Luca, Nick. Grazie, Luca. Grazie, Luca, Nick. Un nuovo reaper è arrivato. Questo Hazard Rive mi ricorda la Real Tournament. Ah, è il Lizard. Mi fai salire, Lizard. No, sono io. Mi sono davanti. Ho anche detto che ero io. Ho detto, prendo la macchina che mi serve. Poi c'è scritto il nome, si vede anche bello lontano. Eh, ma il Lizard si è un soldato che prendi i veicoli e guidi per tratti brevissimi, quindi... Voglio questo Metal Gear qua. Metal Penises. Ehm, arriva un Airdrop. Guarda che veramente han preso tutto dalle altre Battle Royale. Cos'è quella roba, Marco? Vieni qui. È una cavalletta. Sì, tipo un... Fa vedere? E cosa fa? Ehm, spara... Premi Q. Oh, oh, sento passi. C'è uno, sugo. Dov'è? Dietro. Possibile sparare da dentro la macchina. Ecco qua. Però non è il massimo come pompa, eh. Se fa abbastanza... E la pompa deve essere attaccatissima. E' come il lanciafiamme di prima che faceva una sega. Devi stare appiccicato. Eri poi... Che, perché ero abbastanza avvicino ma devi stare proprio appiccicato. Guarda questi pagliacci. Merdi. Ha spesso lo scudo. Preso da Grounded, quello. Incredibile. Han preso da tutti i giochi del mondo. Una cosa bella per ogni gioco han preso. Ah, guarda che bella manca. Questa è il cyberpunk, tra l'altro, ragazzi. Toma, pagliaccio. Sono morto con l'amica. Aiutatemi, amici. Santa, me... E qua, e qua, venite. Arrivare, arrivare, arrivare. Questi stanno salendo sui mezzi. Non è morto. Venite, che la sta ressando. L'ha ressato. Ah, ma adesso ci penso io, Marco, eh. Ma c'è la torretta, gliel'ho rotta. Fermati, 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 guarda. Ok, uno l'ho rotto. No, aspetta. Ne c'è ripresata. Antonella Clero. Un attimo, che mi sono rotto le palle. Lo uccido, ok. Come si fa? C'è la safe, veloce. È morto Marco? Sì. Ma non ho fatto in tempo. No, è mia macchina. C'è uno là. Sicuro. Dai, adesso le armi di KFL. Rispondi i Zable, eh. Non possiamo più risponare. Che culo, Marco. Dov'è? Mi insegnava gente davanti. Io vado qua, ragazzi. Ah, eccolo là. C'è uno laggiù. Arrivo. Cazzo, non frena, ragazzi, questa macchina, eh. Questa vecchia. Osteria. Eccolo. Fa schifo, effettivamente, questa compa, eh. Aia, c'è un altro... No, mi ha fatto. No, come si permette. Arrivo, ragazzi. Molto lentamente. Ok, tirata su. GG. GG. Devo curarmi. Questa volta lo farò, eh. Ma no, ma è nel culetto, lì, Ezra. Fa male. Ti devo. Grazie. Prego. Ma c'è un dirigibile gigante. Cosa c'è? Dirigibile marrone è l'airdrop. Senza lì che timone dentro. Ma c'è da solo, eh, occhio. Che ridere, Marco. Che ridere. La ricorderanno in pochi la discambuladores. Eh, dopo che non facciamo... Cosa. Oh, dietro. Mi sparano, mi sparano. Eccolo. Cazzo, come l'ho sdrubato. Guarda che mi devo prendere... Eh, guarda che bellini i veicoli che sono. Sì, i veicoli sono incredibili. Devo prendere l'ICMA. Sì, sono pieno di riferimenti. Tra l'altro si trasformano. Ah, 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 ah. Aspetta, mi parlo. Bombardamento in arrivo. Dov'è? Eh, c'è l'area rossa. Ah. Questo è un desiderio da pub. Sì. Sono degli scudi qua. Ah, là c'è una cassa bella. C'è una cassa soper. Devo fare così, devo fare. Ma è verenzoli! Ma là stanno bombardando. Chi è? Adesso devo fare... Ma in realtà hanno bombardato qua dietro, non c'è nessuno. Facceva schifo questa cassa di merda. Direi ci... Dove sono gli scudi? Pubblicità in gioco, Draco? Che pubblicità? Eh, sul telefono, credo. Ma sul pass ha detto. Ha citato il pass. Ma più giochi senza pubblicità. No, sul... Già mi messi... Metti il pass che senza... Ma loro, sai leggere? Eh no, è difficile leggere lì, eh. Ah, capisco. No, perché inizio pensavo far assedere il telefono, ma ha detto il pass. Non ho capito. Oh, mi sparano! Oh, Mimmo! Degodraco, voi combattete. Tra cato! Oh, aspetta, voglio... Vabbè. Mattimo che sono... Ok. Un vrenzolo. Mi devo durare. Ok, è morto uno. Ok, un altro quasi. Tiro sull'Ezer. Come cazzo si muove questo lagga? Merda! Ah, ma c'è uno che flanca. Ahia. No, Franca. Uccidete Franca. Sta flancando da qua. No, da qua. Non gli posso uccidere il fucile. Io ho il mirino un po' di qua. Ok, ho ucciso uno in fondio. L'ho craccato uno dietro, eh. Ok, mi sa che ne è rimasto uno, questo qua. Adesso lo inchiulo, eh, questa. Sì, sì, è senza arma nulla. No, c'è uno anche dietro. Questo lo buono da giù. C'è l'altra. Ok. C'è uno là dietro ancora, eh. Vado a prenderlo, vado a prenderlo. Pushiamolo, brother. Azzo! Ok, ho avuto l'Ezer! Tutto è fatto. Oh, è critica, eh. La situazione. Via, morta. Grandi! Yeah, grandi, brothers! Siamo 4 contro 4? Oh, oh. Se il gioco si possono fare le private? Non credo. Esattamente abbiamo potuto giocare insieme. Eh, curatevi. Eh, sì. Curatevi. Ah, ma allora parlavi dei giochi mobile. Allora non ho capito cosa dicevi del pass. Perdonami, Draco. Il pass... Il pass quello di Google. O quello di Apple, intende. Eh, devo curarmi. Ah, parlava del Battle Pass. Eh, ma se il... Eh, il Battle Pass... È che non è così. Sì, sicuramente potrebbero toglierti le pubblicità nel Battle Pass. Ah, se compri il Battle Pass... Ma di solito dei giochi, sì. Ma è tipo in Marvel Snap e non hai pubblicità, per dire. Perché è feddo questo saluto freddo? Da cinquantenne. E quando c'è qualche non detto ti difano quel saluto. Eh, Mark, curati la vita. Ah, forse perché ho giro il risultato quasi gratuitamente, quasi. Un po' scortese lui, secondo me. Non mi calma, che uno... Eh? Mi servirebbero dei medici più nuovi. Oh, cazzo. Gli è traconto di quei ping, non vedo più una sega. Ai, 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 che male. E c'è il robottino. Cazzone, mi ha squagliato, ragazzi. Ma che poi quella lì, come si prende? Dopo che uccidi un botto di gente? Ai, 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 brucia, brucia. E ho, che quello lì vi sfonda. Ma guarda. Eh, fa male. Gli ho tolto 19. Ma fa malissimo. Sì, ma tutte con le armi, macchina. Questo vuola, poi. Ma che è? Devo prendere assolutamente l'Ikman. Vieni a tirarmi giù, su, Marco. Buttati di sotto. Vieni, corri. Dove sei? È pieno di un elma. Dove sei? E qui, ormai, è troppo tardi. È troppo tardi. Chi aspetta? Però qui. È quasi morta, eh? No, non ho capito. Una brugola, ragazzi. Ma dai, però l'ho vinto con le macchine. Ma il coso, la tuta volante lì, si prende una certa o si raccoglie e la puoi sparare e ti c'inchiuli. Però abbiamo fatto una partita di merda per me. Argento 3, ragazzi. Si gode. Si gode. Ma poi fino ad Argento, mica ci arrivi sicuro. Cos'è che godi? Cosa godi? God, god. Ma che godi? Aspetta che apro il puzzle, è un attimo. Sì, sì, come no. Ah, perché sono in squadra, non posso claimo. Oh, oh, oh. C'è l'inculata, mi dispiace. È la skin, ma non è il personaggio, naturalmente. No, c'è l'inculata, perché vedi, ci sono le fiammelle. Devi raggiungere 500 fiammelle per averla gratis. Quindi non... E lei è free, però, lei è free, guarda. Eh, devi... Ah, no, è la slot machine. Devo pull, pull, devo pullare. No, oh. Ho pullato, ragazzi, però, eh. Nove diamanti, cazzo. Quanto costano i diamanti, che sciocco? I diamanti costano tanto, eh. A Dubai, a Dubai, ci sono persone che vivemmo bene. Quanto costano i diamanti, ragazzi? Non ce lo so, non si può sapere. Clicco i diamanti, non li posso cliccare. Mission, posso claimare? Ma ha dato la lasagnona. Mi è venuto voglio di giocare a quello lì con tre contro tre con la palla e le porte. Mettete il pronto. Ma ce la facciamo? Sì. In 5 minuti, buttiamoci in città. Guarda, guarda. Guarda che giglano le tette, guarda. Vabbè, è una animazione liquida. Sono fatte di budino, però, purtroppo. Veramente liquida. Sono fatte proprio di budino, guarda. I budini quelli verdi. Mammi, ecco, Daniel, subito. Approfittatrice. Però vorrei morderle, effettivamente. Cazzo non moro. Sono di gelatina, di budino, ragazzi. Dona per questo gioco magnifico, grazie Filo. Ma, Mector. Sì, che proprio, proprio, che è un schiaffone enorme che gli esplode in mille pezzi la poccia. Perché sono, cioè, io mi immagino che se li tiri sulla maglietta, ha due budini di quelli verdi dei film americani classici. I gelos. Che brutta scena. Non voglio immaginare. Perché vibrano così, eh? Che bella scena. Cosa fa, lei? Scout. Ah, lei è quella che lancia l'wallack. Guarda che c'ho il culo iridescente, ragazzi. È veramente incredibile. Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Non so, non so, non so! Per cosa dovrebbe servire perché sei un cyborg non sono un cyborg Sono gli occhiali senza lenti poi le hipster siamo nel futuro che mettono Solo la montatura quale le orecchie fatte di pizza Sì è un fattorino. Grazie Granduca Grazie Granduca Grazie Ducone Quindi scarichiamo anche questo Anche perchè non si può giocare insieme No c'è Star Wars Ma che bello non si può giocare insieme Ma che bello non si può giocare insieme Star Wars entri nella partita E si prendevelo per pc per forza Ma non l'ha regalato Allora dove andiamo? Andiamo a Broday No a Apex No, non sto giocando Andiamo qui dove c'è il pennacchione All'Aris Range Marco vai Star Wars Bello qui eh Ma dov'era? Dov'era? Aspetta ho perso il punto Sì vai qui non c'è il punto vai giù vai Iris Ranch vai Ma anche lì di fianco c'è il pisarellone vai al pirellone Marco Io non capito questa L'Avengers Tower ma non è vero Ma no è bruttissima questa Perché? Ma una palla Ma una palla senza senso cosa c'è in quella palla? Ma sarà un edificio ci sarà da entrare Ma è brutto Non credo Non credo Non credo Tre minuti solo tre minuti solo Non c'è veramente Non è abitabile? Eh no Ah Ma che è sta Ma sto Stavo raccogliendo un'arma Io ho il VSS Ma non spara così il VSS Bugia Oh quante casse euro? Ho preso io Un pompello Nooo È un milione di euro? Eh sì Ah ragazza La cassa dei budini mi aveva quasi convinto Porci Che te porcellini Vi piacciono Allergia No 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 Non ho allergia fortunatamente Avete questi giorni che iniziano la gente a morire Di allergia Pia di polli Io ho Pia di polli A meno Da piccolo mi dava problemi Ma Se è un veicolo siete voi? No Eh Sono morto Da piccolo mi ricordo che mi faceva lacrimare quando arrivava al periodo pollini E poi non è più successo Il periodo polli c'è Ciao caro Ciao Draco Moro sei allergico ai budini? No li voleva mordere diceva prima Quindi non credo Non sono allergico a nulla io Magari non lo sai Forse No forse sono allergico alle noci Ma Però non troppo Cioè mi irritano un po' perché sono un sacco calori che mi danno fastidio più che altro Quindi non è che sono allergico Eh ma l'allergia di solito è problemi alla gola Esatto Quelle gravi a respirare addirittura A me mi inzuccia Possa miseria Marco A me mi inzaccherano la lingua Eh ma c'è il muro di Ghani C'è un problema grave di sto gioco non capisci quando sei veramente in fericolo E sparano dal culo C'è la tua vita sembra sempre uguale non capisci bene quando L'ho trammonato L'ho trammonato L'ho cagata fuori dal vaso Dove sono gli altri? Eh non so C'è uno qui vicino da me Ma c'è Karim Ma no Dove è Karim? Mamma mia vero Spunna questo Qui Qua sopra Ok Morto Gigi La mamma di mia mamma era mia nonna Mi portava la gonna Oh ai tempi sei pazzo Tu deve fare un soco E con la gonna però Questa era una volta La gonna non era consigliata Dai mi spiega sotto il ginocchio Ai tempi Sotto il ginocchio Ma a me mi sei 15 anni Ma come ti metti Dai ti sto dando della giovine Accettalo Oh c'è uno con le palle di fuori Oh eccolo Eh proprio le palle Eh si All'accato C'è un altro con le palle di fuori E occhio credo secondo me Non lo so Forse credo secondo me Forse vuoi macchino Devo Devo Pomparmi la cosa Che babbari Ma cosa scrive quella cosa? Cosa scrive quella cosa? Grazie scuola Grazie mille Boh Non lo so eh Si vede che siete nella stessa barca Comunque Correndo il porcupine Bello mi piace il porcupine Qualcuno ha sparato però Io sto laggando Eh anche io È stato un attimo di serverino Anche lui si ha laggato Ma comunque davvero Questa casa Connessione stabilissima Veramente perfetta Eh lo so adesso avrò problemi di connessione per due anni Si Oh porca miseria Eh questa è la mia connessione ragazzi Eh mi sa di si All the day Cos'è che c'è scritto Way All day Qualcosa way All day All day All day qualcosa way All day All day I'm coming I'm coming My My little Penises Andiamo 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 ragazzi Potete salire sopra almeno? No Si G Ah gli eservi qua Non corre questo È all the way? Non c'è un Non vedo un dè Bene insomma va Ma cosa dice questo? Ti Pullo eh Ti pullo Ti pullo Ma scusa Questo turbo mi sembra finto Si non è vero che stai migliorando la prestazione sessuale Si allontano la telecamera e basta No Non è neanche mi si allontano Oh Pulliamo Andiamo a pullare Eh Come si scende? Ho tremonato eh il tremone Dai lo distrago con l'avventura L'alleanza avventura È quasi morto quello Fuerteventura Tipano Non è vero Cioè si Molto si L'ho investito con la cum Che schifo E' buona Sono caduto come una waller ragazzi Che imbarazzo Mi tira su Mi tira Mi tira su Hai preso il doctor Chi è che caga? Marco Io muoio mi sa No aspetta forse sono No non C'è non Dove cazzo sei tu? Eh dietro erano ero contro due Merda Sono sempre di quel team lì Sono venuti di qua Sono scappati da questa palla Eccoli Craccato uno Mi ha ucciso Daddy Mi ha ucciso Daddy ragazzi No Mi ha ucciso il Daddy Dove è la mia palla a destra? Eh provo a cercare un po' Eh manca uno Si è morto proprio Ok Si John Ma non fa i restanti però E' andata proprio così Si è già restante No se mi colpisce una volta cago dal culo Ti penso io Devo curarmi Ma quindi non posso riprendere le mie armi giusto? Si 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 eh C'è la cassa Arrivo su Non ho partito C'è della gente ragazzi No ancora Sento dei piedi Il pensimonio Prima devo curare L'ho tremonizzato È morto Ah c'è la t'amoro Mamma che la stit che hai dato È morto È stato veramente una stit bestiale qua eh Restorando la shield Potremmo di pulire Reloading Friare avvento È vero Questa qui la dobbiamo vincere L'ultima È vero Mi devo carriara Eh? Devo ruttare Eh no Non ho spaventato Perchè rispaventato In vero Oh c'è perchè già la geuca? Il chi? È laggiù Vedete che ci sono dei Stanno Car miseria Ma quello è quello di adesso che è stato ressato Che cazzata sta roba che vengono Che vuoi respawnare però Chi spari? Ecco Alla dietro Alla dietro Alla dietro Non riesco a prendere da questa Oh siete lontanissimi È morto? No Adesso si Respawn Disable Attenzione Dove è? Dove è? Ma quindi questo è il gioco che stavano facendo Shroud E tutti quelli Project Fonzy Questo Non credo Ninja c'era pure nel progetto Tutti tutti Secondo me c'è troppo hype a farà cagare Vedete? C'è troppo hype? Ma il secondo è il suo TikTok Madonna il suo TikTok mi sono capito i 20 video così Non lo sapete? Il classico TikToker base Lo sapete? Cos'è successo in ambito vedo ludico Perché sono siciliano? Lo dico in siciliano Perché siciliano per davvero Non per pendere per il culo E c'era lui che diceva Ma lo sapete? Ma lo sapete? Ma lo ricordate Ninja? Quello che aveva bello il blu Che faceva le pere Ok Ma lo rifai uguale ma in Pugliese? No 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 Ma in Pugliese Ma lo fai tu? Quello sarebbe pendere per il culo A fine me ci soppurlare per 10 Dice Plofus Vediamo un po' come parla questo vecchio finto Sium Sium? Eh Sium è uscito A fine me ci bisogna pullare per 10 ragazzi E' l'unica Fai giovane Plofus C'è la mia età Più vecchio di me Eh si è più vecchio 89 Eh ma adesso non vuol dire come se stesse per morire Eh più vecchio Voglia sta per morire 50 milioni di anni Eh cosa ti impari? Faccio da voglia Prende poi tra l'altro Ma tu decidete che io ti mangio la pasta? Se sto giù No non mi mangiare la pasta Ma scusa la fa lui la mangi tu questo è proprio da criminale Sono dentro ragazzi E' vero è vero è vero adesso Succa me ne va Vado a vedere l'altro Ai Jo Eh Vector dimmi Punta il Ditox Oh oh chi è? Sono io sono io sono io sono io Vado avanti c'è il gruppo di Barbara Dunto Ho fatto Andiamo Eh Sì Vector per un milione di euro farei di tutto Lo mi ho detto sul gruppo E' vero che anche Ime dell'89 Che vecchia E' certo Invece super piccola eh Era solo per prendere un po' in giro perché E' vero bene in realtà Ime Cazzo! Cazzo! Siamo divisi però, eh? Io me ne sbatto, vado su qua a lutare. Moro, sei un zitto e scendi. Scusa, è una canzone dei Legoland? Come si chiamano quelli li? Ma chi sono? I Mane Squirt. Chi è quest'altro mogo, Mane Squirt? No, ma io c'ho una terza arma, le Rinoceronte. È un antie... Eh, quello no, evochi un... la tuta. Usalo. Ah, è vero. Legami le mani, legami... No. Non l'hai fatto? Non è... non è... non è questo. E' per distruggere macchine la mia. Perché? Ho capito. Eh, va bene, Moro. Oh, eh, riuniamoci un po'. Pagliacci, sono io quello lontano tra... Ci sono state le palle, Moro ho modificato tutto. Ma perché era più semplice. Poi le palle, Vector, l'hanno chiesto... Eh, ma per quanto tempo, eh? Invece, se fai un fellazione... Eh, lì è quello, appunto. Era per semplificarla, le cose si migliorano. Beh, da testing, poi dopo migliori. Ma poi siamo tornati qua, siamo tornati alla fine dei conti. Eh, ma è quasi. Eh, ma vedi, si torna sempre dove si è stati bene. Oh, c'è una cosa da aprire qua? Eh, ma adesso ci aprono il culo, eh. Dovremmo stare... Prendiamo positioning. Cazzo. Che confusione. Io puzzo anche il mano. Non è vero, Marco. Eh, a te che ti puzza l'hanno sì, invece. Quello è vero. Eh, quello sì. Chi spara... È da solo. Eh, ma sto lutando, Marco. Eccoli. Cazzo, ragazzi! Ho pullato fuori dal culo. Ma ora è morto perché è un pirla. Nooo, nooo. Come tutto da piani. Eh, ma stavo pullando... Mi fottono le cose! Mi fottono le cose! Marco sei stato dentro il bombardone Ma ero il pelino di carmelino io qui Eh ma non a bastardo Ecco cosa succede da pullare Questo è un grande Insegnamento ragazzi Arrivano 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 gli infami Infami Ma quante squadre dai E' il tutto nelle tue mani Fai il vigliacco Nasconditi Sei da solo contro quattro Dietro di te dove guardi Vai dentro No campera campera Scusami Era Pathfinder Ah ragazzi Allora Uninstall questo game Non lo faccio Un peccato Un peccato Ma devo dire l'ho provato Sono fiero di averlo fatto Aspetta aspetta forse posso pullare Si libera un po' di memoria Ragazzi ragazzi zitti che pullo Ora tutti a pullare No Ma Peccato eh Aspetta aspetta pullo Un'esperienza da evitare Si No ma è un gioco senza infame Senza loda che anzi Per essere quello che è Va anche bene Aspetta la lottoria di giocarci Alle partite veloci ci sta dai Zitti zitti che posso pullare Avendo a fortnite il gioco Quello Che devi fare Eh sto pullando Zitti zitti Sto pullando Aspetta Ma che pulli Che lo stai disinstallando Eh Oh oh Aspetta che posso pullare qui eh Cazzo 1500 euro Che schifo Aspetta posso pullare anche qui Oh raga Oh Non ho idea di cosa sia Posto vai Ho pullato Posso disinstallare il gioco Eh si adesso bisogna liberare un po' di memoria Ma domani mattina ragazzi Non mi ricordo Intanto ringraziamo Battlefront Che nonostante tutto Si Ci ha Divertite eh Si grazie Memis Grazie Grande Memis Una simpaticissima Alla prossima eh Alla prossima Ci vediamo Ci vediamo in Puglia Che sicuramente Ascolterò E Poi Domani mattina Battlefront Tanto ho sentito il mio poi Dalle cuffie di Memis Credo Comunque domani mattina Battlefront 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 Intanto noi invece Era quello dei parcheggi Quindi Confermato Anche Mordau Come volete O Mordau Se ci danno For the King 2 Ah è vero Devo chiedere Aspetta Devo fare da Steam Sì Se ci danno quella Facciamo for the King Dai Se ci danno La beta di for the King 2 Domani sera quella Altrimenti Succhiamo il parcheggio Succhiamo Bacetti a tutti Ciao Ciao bellissimi Ciao bellissimi Ciao bellissimi Bacetti a tutti Mua Carina Mua Ecco qua Ciao belli Andate da gatto Un salutone a tutti Ciao bellissimi Ciao bellissimi Grazie a tutti.